Passiamo ora all'ultima parte del video che riguarda degli esempi pratici con grep, giusto per vedere, esempi così in ordine sparso, per vedere che grep effettivamente è vero che grep usa le espressioni regolari. Io qui faccio nient'altro che copia e incolla per mostrarvi proprio che funziona così, spero, vediamo un po', quel rosso lì non mi piace tanto, ma vediamo se è ok, perché a Fish non piace, scusate un attimino, arrivo subito. Eccomi di ritorno, scusate, nella scaletta, oppure mi sono accorto dopo che sotto c'erano opportunamente gli apici per definire i comandi dell'espressione regolare, nel primo mancavano e quindi mi ha dato errore, nel terminale mi ha dato errore l'interpretazione del comando. In realtà mi è bastato mettere gli apicetti qua e così funziona il comando. Anzi, già che ci sono facciamo un po' di pulizia, sempre meglio. Allora, il comando, riprendiamo il nostro percorso, quindi il primo comando cosa fa? Cerca le righe che iniziano con un punto, mica facile, quindi ne ho messo una apposta, giusto per vedere che torna il risultato nel nostro testo campione. Ho messo, tra virgolette, a tradimento un puntino in una riga qualsiasi all'inizio, vedete qui in rosso, evidenziato. La riga modifiche con il puntino, se apriamo il testo campione, vediamo che l'ho messa dentro proprio qui apposta per farla trovare. Quindi questo comando, con questa espressione regolare, con l'ancora e con la barra rovesciata puntino, dice mostrami, filtrami, considera tutte le righe che all'inizio della riga hanno un puntino. Ecco, magari non ho proprio scelto un gran carattere come inizio riga, ma vabbè. Poi, qui cerca ogni riga che inizia con B, ecco qui cambio carattere, non so se ce n'è una che inizia con la B. No, in effetti nel testo campione non c'è. Magari vediamo se c'è in quello originale inglese. Sì, ecco, in quello originale inglese ce n'è, allora magari qua. Metto nella scaletta così. A questo punto mi sa che assieme alle scalette dei video vi lascerò almeno qualcuno di questi file che uso proprio per i miei comandi. Magari questo e queste, vi li lascio nell'archivio compresso assieme alle scalette. Vi lascio anche i file che sto usando per gli esercizi. Quindi vedete che tutte le righe che iniziano proprio con l'ancora, che iniziano con B, vengono tornate da grep. Cerca le righe che terminano con B. Questa mi sa che in italiano righe che terminano con B. Quasi quasi ci metto già quello originale inglese. Vediamo un po', stavolta che terminano con B, mi sa che qui per FISH devo mettere lo slash. Non ce n'è, eh. A questo punto direi che per FISH devo metterci il dollaro perché sennò il dollaro viene interpretato dalla shell FISH. Diciamo che trucchiamo ancora una volta il file, non so, preambolo B, o preambolo spazio B, vediamo un po' se è sufficiente. Quindi il testo campione, no, non me la trova così. B minuscolo. Scusate, preparo l'esempio e poi torno, eh. E rieccomi, diciamo che quando ho preparato la scaletta non ho avuto una grande idea, eh. A far cercare le righe che finiscono con una B in un testo italiano. E non ci sono neanche in inglese, addirittura in questo testo campione. Quindi cambio lettera, va. È molto più saggio e sensato cambiare lettera. Quindi, iniziano con B, va bene. Cercare ogni riga che termina con A, ecco, con questo comando. Quindi, il nostro testo campione, ho messo A dollaro, quindi da destra verso sinistra, enter. E vedete che mi trova alcune 5 o 6 righe che terminano in effetti con la A, così molto più sensata la cosa, eh. Senza tirare per i cappelli sti esempi. Cerca ogni riga che contiene stringhe con... Scusate. Cerca ogni riga che contiene stringhe con... A, N, fisso, e un terzo carattere qualsiasi. Quindi, ecco qua l'esempio. Speriamo che ci sia questa corrispondenza, eh. Avrei dovuto provarle, eh, questi esempi prima. Però, visto che ho un poco preparato la scaletta, chi si ricorda? Ecco, ovviamente non trova niente. Vediamo un po' se c'è nel testo originale in inglese. No, nemmeno. Ci picchia. Che disastro con questi esempi. Scusate, interrompo ancora perché veramente non va bene, così, eh. Devo rivedere un attimo gli esempi, se no non andiamo più avanti. Arrivo subito. Eccomi qua di nuovo di ritorno. Scusate, ma finalmente ho capito cosa è successo. Non è che è il comando che non funziona, ma è che facendo coppia e incolla da qui, questi apici non sono quelli verticali qui nel terminale. Quindi non mi va bene far coppia e incolla. Non so perché qui alcuni di questi apici non sono quelli verticali come questi nella scaletta. L'ho notato dopo, perché poi non è stata gran differenza. Ma finalmente ho capito dove sta l'inghippo. Ecco, quindi magari scrivo a mano gli esempi laddove vedo che l'apici non è quello giusto, insomma. Oh, finalmente ho capito l'inghippo. È bello della diretta o il brutto della diretta, eh. Quindi se faccio enter con questo comando, quindi, che trova tutte le stringhe AN e che vengano seguiti da un carattere, quindi il puntino, un carattere qualsiasi. Quindi vedete che mi trova tutte le stringhe, le righe, mi filtra tutte le righe, me le considera, dove si trova un AN che segue per esempio la O qui, italiano, oppure solta AN, T, AN, T, AN, G, eccetera, eccetera, avete capito, eh. Un altro esempio, ormai già che ci siamo li passiamo tutti, eh, speriamo di andare un po' più veloce senza più interruzioni. Quindi ogni riga che contiene Q, Q fisso e 0 più U, quindi con questa sintassi, dovrebbe essere giusta stavolta. Quindi abbiamo la Q fissa e la U con il quantificatore asterisco dopo, che vuol dire che ci sia o 0 U o 1 più U, insomma. Ecco che ci trova la Q fissa con la U, con la U, vedete che trova tutte le Q U, eh, Q U, voilà. Altro esempio, ogni riga, cerca ogni riga che contiene 0 più occorrenze di un qualsiasi carattere, quindi questo genericamente, con puntino, asterisco, con il quantificatore, vuol dire che trova tutto, vedete che praticamente mi mette tutto in rosso, perché puntino vuol dire tutti i caratteri, quindi 0 più caratteri trova veramente tutto il testo, praticamente, tutto il testo campione, eh, ecco qua, tutto il testo campione è stato evidenziato. Non commento più di tanto, perché appunto la teoria, eh, l'abbiamo già vista nei video precedenti, e qui è semplicemente un'applicazione pratica in un comando da terminale delle espressioni regolari che abbiamo visto nel sito, con il sito interattivo. Altro esempio, cerca ogni riga che contiene due caratteri qualsiasi, seguiti da CEPT, esempio, accept, except, qui forse devo usare il testo in inglese, quindi, diciamo, copia e incolla, sì, è giusto, gli apici, quindi due caratteri qualsiasi seguiti da CEPT, quindi due puntini, vuol dire due posti per due caratteri qualsiasi, e poi fisso CEPT, diciamo ENTER, e vedete che mi torna CEPT, AC, CEPT, EX, EX, ACCEPT, EX, eccetera, eccetera, insomma, il concetto è proprio quello, eh. Altro comando che cerca ogni riga che contiene T, W, E oppure O, e ancora una O, esempio, TO, TO, NETWORK, TOOLS, ancora una volta usiamo la versione inglese originale del testo campione, e qui vedete che appunto c'è la T, poi, fra parentesi quadre, l'insieme di ricerca di V oppure O, e poi una O fissa che segue, quindi uno, due, tre caratteri in fin dei conti, e vedete che c'è il TO, 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 NETWORK, eccetera, eccetera, che funziona, eh, GREPT veramente funziona esattamente come la teoria, eh, come la teoria che abbiamo imparato nei video precedenti. Qui cosa dice? Cerca ogni riga con ODE, ad eccezione di CODE, eh, quindi qui una ricerca tra virgolette più complessa, per modo di dire, perché ormai conoscendo le cose, quindi abbiamo questo, eh, questa posizione di ricerca, fra parentesi quadre, che dice, con il NOT interno, quindi col cappellino che dice non la C, quindi che ci siano tre caratteri, in questa posizione ODE, dalla seconda in avanti, e la prima posizione basta che non sia una C, C, tutto va bene, ma basta che non sia una C, facciamo ENTER, vedete che c'è CODE, visto che escludo la C minuscola, CODE esce perché c'è la C maiuscola, eh, MOD, MOD e MOD, che è tutto meno che la C, ecco, perfetto, eh, cerca ogni riga che inizia con una lettera maiuscola, ecco che qui magari, giusto per mostrarvi come funziona, usiamo il, la forma del comando, eh, con, eh, come si dice, con la classe di caratteri, quindi upper, invece di mettere l'alfabeto A trattino Z, diciamo che, eh, usiamo la classe di carattere upper al posto di AZ, giusto per usarlo una volta, eh, quindi cosa fa? Ancora all'inizio della riga e mi deve tornare tutte le righe che iniziano con una, eh, una perché non c'è un quantificatore, con una lettera maiuscola, quindi vedete che mi torna tutte le righe che iniziano con una lettera maiuscola, voilà, eh, cerca ogni riga che contiene qualsiasi lettera e spazi e parentesi, eh, questa, vediamo un po', questo, magari facciamo pulizia, va prima nel terminale perché se no poi ci si confonde, quindi questo cosa cerca? Cerca, eh, una, che inizi con una parentesi, qualsiasi lettera maiuscola o minuscola, anche degli spazi, quindi l'insieme di ricerca, qualsiasi, quindi da zero o più occorrenze di questo insieme di ricerca e poi si chiuda con un'altra parentesi. Francamente non so cosa mi torna e adesso lo so, praticamente torna tutte le parti di frasi che sono fra parentesi, perché abbiamo messo parentesi inizio, parentesi alla fine, eh, vedete che tutte le frasi incluse fra parentesi con dentro dei, praticamente tutti i caratteri maiuscoli e minuscoli possibili sono evidenziati, ecco. Poi, cerca ogni riga che inizia con una maiuscola e termina con un punto. Ok, facciamo pure anche questo esempio, quindi c'è l'ancora che dice cerca, che inizia con una maiuscola, che trova qualsiasi carattere in mezzo, in tutta la riga e che comunque alla fine termini con un un punto, praticamente, eh, con l'ancora dollaro, che vedo che è in rosso, quindi mi sa che la shellfish qui lo interpreta, mi sa che dà errore, sì, giusto. Vediamo se riesco a farlo funzionare correttamente, non lo so, eccoli qua, eccoli qua, devo mettere la barra per non far interpretare la shellfish il dollaro per conto suo, eh, per farglielo prendere proprio come dollaro, quindi vedete che iniziano con una lettera maiuscola e termina con un punto, tutte le righe che iniziano con un maiuscolo e terminano con un punto sono evidenziate con tutti i caratteri in mezzo. Poi, eh, quanti esempi che ho fatto? Filtra, ovvero esclude tutte le righe vuote, comprese quelle che contengono solo spazio, ecco, questo è interessante, eh, vediamo un po' se... Filtra tutte le righe vuote, eh, non so se dovevo salvare, qui salvo in un file esterno il risultato, probabilmente perché è troppo lungo per vederlo nel... nel terminale, quindi fit, quindi esclude in questo caso, eh, tutte le righe vuote, esclude perché ho attivato l'opzione meno vi, quindi di escludere quello che sto cercando. Le righe vuote, comprese quelle che contengono solo spazi, come facciamo saperlo, mettiamo il cappellino qui per dire inizio riga, poi da 0 a n spazi, quanti ne vogliamo e poi subito fine riga e questo praticamente cerca, questa espressione regolare, tutte le righe vuote di questo testo e poi lo salviamo il risultato in questo file mod qua, eh, quindi vediamo un po' cosa succede. Ecco, quindi escludendo tutte le righe vuote abbiamo, come dire, compattato il nostro testo campione, che vedete che non ci sono più né a capo vuote né niente, ma ogni riga contiene del testo perché abbiamo escluso tutte quelle vuote, eh, vedete? Con questa semplice espressione regolare, che finora forse non abbiamo mai visto, ma questa è utile per cercare appunto le righe vuote, incluse quelle con solo spazi, semplice, ancora davanti, ancora dietro e in mezzo da 0 a quanti spazi vogliamo, perfetto, eh, questo è un esempio interessante. Siamo quasi alla fine, per fortuna, allora, cerco una stringa o l'altra color raggruppato e qui ci vuole il grep esteso, eh, come abbiamo già visto, questo, qui ci vuole il grep esteso perché se no non riesce a capire questo or delle espressioni regolari, quindi vediamo se funziona, ecco qua, quindi cerca o gpl o questa frase e vedete che c'è gpl oppure questa frase evidenziata, perfetto, funziona col grep meno e esteso, eh, cerco una stringa con una parte copy opzionale, ovvero trova copyright e anche write, adesso vediamo un po', sempre esteso, eh, grep esteso perché queste sono già funzionalità tra virgolette più avanzate, quindi cerca copy col punto di domanda che vuol dire opzionale e poi write fisso, quindi troverà sia la parola write in inglese sia il copyright ed ecco che infatti c'è write tipo writes, i diritti writes e anche copyright, vedete che funziona con la parte opzionale, ecco. Vedete che grep appunto si comporta ovviamente come ci aspettavamo come le espressioni regolari stesse perché le sfrutta appieno. Qui un ulteriore esempio, cerca le stringhe con parole che hanno tra 16 e 20 caratteri, ecco questo è un altro esempio interessante, anche qui sempre col grep esteso, diciamo, sfruttando anche una classe di caratteri alfa, quindi maiuscoli, minuscoli, tutti i caratteri che ci sono, e però con le ripetizioni tra 16 e 20, quindi tutte le parole, e non ce ne sono tante come vedete, che hanno una lunghezza che varia tra i 16 caratteri e i 20 caratteri, vedete, ci sono solo tre righe contenente queste due parole che sono lunghe così. Interessante anche questo come esempio, dovessi filtrare un testo con queste caratteristiche, è subito fatto con questa semplice espressione regolare. Andiamo avanti, cerca le stringhe con parole che hanno tre vocali in sequenza, esempio PREVIOUS, ecco una parola inglese I O U, contiene appunto tre vocali in sequenza una dietro l'altra, anche questo è un esempio interessante e pratico. Ecco, qui vi lascio ovviamente la scaletta, come sapete, nella descrizione del video. Questo video, magari è anche troppo lungo in quanto tale, però mi piace mostrarvi questi esempi pratici, perché poi possono sempre essere riciclati e servire ampliati, integrati in altre necessità pratiche vostre, ecco, di questi esempi. In questo caso cosa fa? Enter. Estrae tutte le righe che hanno appunto tre vocali una dietro l'altra. Come fa a saperlo? lui, gli diciamo che, gli diamo questo insieme, fra parentesi quadre, di ricerca delle vocali, quindi gli indichiamo le vocali sia maiuscole che minuscole, quindi quelle italiane A, E, I, U, A, E, I, U, e il quantificatore è tre, quindi gli diciamo, devono essere tre, se le trovi devono essere in fila tre, quindi questo, fra parentesi quadre, sappiamo che vuol dire o questa, o questo, o questo, o questo, o questo, o questa, e quindi lui per tre ripetizioni, per tre posizioni, cercherà tutte e tre le volte fra questo insieme, se coincide nel testo, e quindi aiutare i suoi, vuoi, e vedete che ha trovato esattamente le tre vocali una dietro l'altra. Molto interessante anche questo esempio, poi siamo quasi veramente alla fine, stavolta, cerca stringhe con la parola command e elenca tre righe prima e tre righe dopo, ecco perché anche questo non fa parte in sé delle espressioni regolari, questo fatto delle tre righe prima e dopo, non fa parte delle opzioni di grep, però è utile e interessante da sapere. Quindi l'espressione regolare, questa volta è veramente banale, senza nessun, è semplicemente cercare la parola command. Però con l'opzione meno B che vuol dire before, quindi prima della riga che contiene command, tre righe, e A che vuol dire after, meno A, tre, che vuol dire anche dopo, tre righe dopo quella che contiene command. Quindi se faccio enter, vedete che mi torna la riga con l'occorrenza command, quella veramente filtrata, e poi una, due, tre righe prima, una, due, tre righe dopo. Una, due, tre righe prima, la riga con command, una, due, tre righe dopo, qui addirittura c'è anche command nella riga dopo. Ecco, quindi possiamo addirittura ampliare il risultato del filtro non solo alle righe che contengono esattamente il filtro dell'espressione regolare, ma anche se abbiamo la necessità, ampliare un attimo il risultato del filtro, ottenendo un po' di testo prima e un po' di testo dopo, a dipendenza di cosa gli si indica, di quante righe gli si indicano qui in queste due opzioni. Interessante, anche questo da sapere. Poi qui, conta le occorrenze della stringa licenza nel file, ignorando il maiuscolo e il minuscolo. Ecco, qui c'è anche l'opzione di grep che conta le occorrenze, non solo le cerca, ma le conta. Quindi, ignorando il maiuscolo e il minuscolo con la I e con la C vuol dire conta, conta quante righe trovi con la parola licenza. Ecco. Adesso qui siamo alle solite con i caratteri strani, quindi io devo sostituirle con le vere virgolette, se no poi mi dà errore. E, ops, vediamo un po' cos'è che mi dice grep licenza file o dai rektori non esistente. In che senso? Che abbia scritto qualcosa di sbagliato, che mi manca, magari ha il trattino ancora un carattere strano qua. Eh sì, il trattino anche lui non è quello giusto. Ok, ecco, scusate, ma qui copiare da questa scaletta ogni tanto è tra virgolette pericoloso. Il trattino, quindi ci conta, quindi non ci fa vedere le occorrenze, ma ci fa vedere il conteggio. Quindi sappiamo che, a questo punto sappiamo che in questo file ci sono sei righe che contengono la parola licenza. Ecco qua, sei. ci torna il conteggio. Interessante anche questo, eh? Filtra solo le righe contenenti delle cifre. Ecco qua, dai, come penultimo esempio possiamo benissimo fare anche questo e diciamo che l'intervallo di valori numerici fra 0 e 9 vuol dire i numeri praticamente. E quindi ci mostra tutte le righe che contengono dei numeri, che sia uno o più cifre, eccoli qua, vedete? Valori numerici, perfetto. Poi estrae l'ultimo, sì, l'ultimo esempio, estrae le parti numeriche di una stringa ricevendo l'input da una variabile e non da un file. Con l'opzione meno o stampa solo le corrispondenze e non tutte le righe che le contengono. Ah, ok. Va bene, facciamo... facciamo... qui c'è proprio un esempio. Allora, la variabile pacchetto, eh? Facciamo set pacchetto. Dunque, estrae le parti numeriche di una stringa. Quindi diciamo che qui dico questo è il tutorial numero 54 che sto registrando per dire, eh? Quindi ecodollaro pacchetto contiene questa stringa con dentro una parte numerica inserita in mezzo ai caratteri. Adesso se io uso questo comando, ecco, pacchetto, lo passo in pipe agrep con l'opzione meno o e gli dico nell'espressione regolare di cercare solo tutte le classi di carattere digit, ovvero le cifre, 0 o più, eh? Con quantificatore asterisco, faccio enter. Lui mi mostra solo il 54. Ecco, l'utilità di questo esempio sta nell'opzione meno o di grep che invece di tornarmi tutta la riga e in rosso, come qui sopra, eh? Come qui sopra e in rosso la corrispondenza evidenziata, mi torna solo la corrispondenza evidenziata. Questo è importante, eh? Quest'opzione perché se io non uso la meno o, vedete che mi torna tutta la riga con colorato il 54, ma se io sto lavorando in uno script non so distinguere qual è il colorato e il no se mi torna tutta la riga, ma se ho proprio bisogno, la parte numerica di una riga di testo mi fa molto comodo avere quest'opzione meno o perché torna proprio la corrispondenza, quindi ecco che immediatamente ho il valore numerico estratto dalla riga di testo. Voilà, con questo ho concluso questo primo video su grep che forse sarà un po' più lungo degli altri video, ma se lo meritava perché grep è proprio, come ho detto, il principe dei comandi che usano le espressioni regolari. Ho fatto tanti esempi, alcuni dei quali credo possono essere appunto utili anche a lato pratico quando avrete bisogno di crearvi un vostro comando o degli spunti e delle opzioni interessanti. Come sempre lascio dei riferimenti in rete su grep in questo caso e con questo concludo questo video e vi attendo al prossimo. Ciao ciao!